Ciao ragazze, bentornati in questo nuovo video! Oggi sono qui perché voglio parlarvi dei miei prodotti preferiti del periodo. Siamo a maggio, quindi ho voluto mettere come titolo preferiti di maggio, perché sono i prodotti che sto amando in questo ultimissimo periodo, in questa prima settimana di maggio, però in realtà molti di questi li ho già usati per lungo tempo nei mesi precedenti ed è arrivato finalmente il momento di parlarvene. Questa volta non sono solo prodotti di bellezza, ma c'è qualcosa, qualcosina di diverso, qualcosina per i capelli, qualcosina di igiene, insomma, guardate il video perché secondo me può essere veramente, veramente interessante e mi raccomando, fatemi sapere quali sono stati i vostri preferiti perché anch'io vorrei saperlo per poterli provare. Non vi ho detto, se non siete ancora iscritti al mio canale, cliccate su iscriviti, seguitemi su Instagram dove sono attiva quasi tutti i giorni e mettete un mi piace a questo video. Partiamo subito con il primo prodotto, è un prodotto che ho amato e è stata una bellissima scoperta ed è questo, ed è lo shampoo riparatore intenso ultra dolce al rimedio d'acero, olio di mandorle e linfa d'acero per capelli sciupati e danneggiati. È uno shampoo di ultra dolce, mi chiedete sempre quali shampoo uso per i miei capelli e io uso sempre questa linea ultra dolce, però ho scoperto questo che ha un profumo veramente pazzesco. Purtroppo ho rotto il cappino perché mi è caduto per terra, però ha un profumo pazzesco perché io ho la stessa crema a mani della linea ultra dolce di cui ve ne avevo già parlato, che è fantastica e ha un profumo fantastico, quindi ho scelto anche lo shampoo ed è ottimo veramente. E poi già che siamo in tema di capelli, parliamo anche del balsamo che sto adorando in quest'ultimo periodo, è il balsamo crema all'olio di avvocato e burro di karité per capelli ricci o mossi tendenti al crespo. In realtà io ce li ho lisci, però mi trovo benissimo perché sembra quasi molto corposo e molto idratante, sembra quasi una crema più che un balsamo e veramente districa benissimo e lascia i capelli morbidissimi. Mi sembra di avervene già parlato, però non ricordo se qui è su Instagram, in caso, vabbè, comunque mi sta piacendo tantissimo. Oggi comunque non saranno tanti i prodottini, però sono pochi ma buoni, diciamo così. Passando poi a un prodottino un po' più diverso, ho avuto modo di provare grazie ad Octoly questi tre gel per le mani che io adoro. Questi, a differenza degli altri prodotti, non li ho comprati io, ma mi sono stati offerti da Merci Andy, che è un marchio che potete trovare sia sul loro sito, sia da Sephora, e ho visto che non costano nemmeno tanto, pochi euro, e cosa sono? Sono i gel per le mani, i detergenti. Io sono un po' fissata su queste cose e infatti sono stata contentissima di poterli provare. Se vi ricordate, qualche anno fa, quando lavoravo alla Yves Rocher, amavo uno dei loro prodotti simili a questi, che era il gel detergente, sempre per le mani a secco, della loro linea, che aveva un profumo fantastico, perché in genere vendono, diciamo, quasi tutti usano la mucchina, che ha quel profumo di alcol che proprio non mi piace. Invece da lì in poi con Yves Rocher ho scoperto che esistono comunque dei gel detergenti profumati e questi della Merci Andy sono ancora più profumati. In particolare io ho queste tre profumazioni che sono Black Vanilla, quindi vaniglia, poi questa è Cherry Cherry, quindi è un gusto fruttato, e poi questo che è Oh My Lemon, che quindi ha il limone, e li adoro, perché finalmente posso lavarmi, diciamo, le mani quando sono in giro, senza avere quel fastidiosissimo profumo di alcol addosso. Certo, un pochino sanno di alcol, però la cosa bella è proprio che lasciano le mani comunque profumate e soprattutto all'interno hanno delle sferette che contengono una sostanza idratante ed emolliente, quindi non vi lasciano le mani con quella sensazione di secco che lascia spesso, per esempio, la mucina. Quindi veramente sono un prodotto, secondo me, molto spizzoso, molto carino e da avere, soprattutto per le fissate dell'igiene come me. Poi, andando avanti, questa volta con un prodotto di make-up, mi è piaciuto moltissimo il Lucidalabbra della nuova linea, nuova ormai forse, non tanto, comunque della linea, oddio, come si chiama? Ah sì, ok? Nella linea Material Luxury, se non sbaglio, comunque la nuova linea primaverile di Pupa e questo è un Metal Lip Fluid della collezione e mi piace molto perché ha un effetto molto particolare, veramente diverso dai Lucidalabbra che ho usato nella mia vita perché ha un effetto proprio metallizzato, però ha un metallizzato un po' particolare perché ha dei riflessi, e come vedete questo colore qui sul rossato violaceo però ha dei riflessi freddi un po' sul blu e in questo caso vabbè, l'ho messo tutte le labbra naturalmente senza averle sotto niente però l'effetto che mi piace di più è applicato al centro delle labbra dopo aver applicato un rossetto quindi magari con un rossetto rosato e applicare giusto al centro delle labbra come punto luce questo prodottino qui è un effetto veramente molto carino e particolare poi prodottino per i capelli che ho amato questo ve ne ho già parlato però ho avuto modo di provarlo ancora di più di più di più e è veramente mi è piaciuto tanto ed è l'olio per capelli di Mulac si chiama Wilberry 10 è un olietto che contiene all'interno 10 oli non è 100% naturale ve lo dico subito perché contiene dentro i siliconi però veramente la resa è fantastica quindi a me da questo punto di vista non me ne importa e il profumo è fantastico ma la cosa che mi piace di più è che veramente da quando lo uso i capelli super lucidi è molto più facili da pettinare e molto più belli dopo aver fatto la piega e come vedete è così viola ha un profumo veramente buono non è fruttato è un profumo più che altro proprio come se fosse un profumo profumo di profumo avete presente profumi da profumeria che si spruzzano addosso ecco ha un profumo di profumo e io come lo uso lo applico mi piace applicarlo sui capelli bagnati prima dell'asciugatura ne metto qualche goccia sulle mani e poi lo applico su tutti i capelli dopo i capelli sono veramente dopo l'asciugatura sono veramente super lucidi belli morbidi li vedo veramente diversi rispetto a prima comunque io lo applico così come vi ho detto oppure lo applico sui capelli asciutti per rinvigorire un po' la piega non lo uso come impacco perché non mi ispira molto come impacco però non l'ho mai provato quindi non dico niente però sui capelli asciutti o sui capelli bagnati prima dell'asciugatura e della messa in piega è fantastico è una bomba poi un protettino novità dell'ultimo periodo che mi è piaciuto moltissimo è anche questo inviato da Octoly e in particolare mi è stato offerto gratuitamente da Lala Lab è questa box qui non c'entra niente col trucco ma è una cosina che io amo adoro e quando ho visto ho detto no devo prenderla devo averla perché è fantastica ed è una box che dentro ha tutte queste fotine stile foto vintage avete presente? le foto che si scattano da quelle macchinette istantanee che si scattavano tanti anni fa ecco questo sito ti dà la possibilità della Lala Lab di stampare questa tipologia di foto oltre ad ovviamente altre cose che non ho visto perché questa è la cosa che mi piaceva di più queste foto istantanee ma la cosa bella è che potete personalizzare i bordi non con il classico bianco se volete sia anche bianco ma sono tutte super potete scegliere tanti colori diversi qua sono io ai tulipani a Cornaredo non so se avete visto a Cornaredo ogni anno ormai dall'anno scorso c'è una coppia di persone di Amsterdam che creano questo campo di tulipani come se fossi ad Amsterdam è veramente un posto molto bello per fare le foto ma anche da vedere io sono andata un po' tardi però era bellissima e come c'è stato qui sotto è tulipani italiani vabbè ormai è finito hanno chiuso penso però magari l'anno prossimo se passate da queste parti fate un giro e come vi dicevo c'è scritto tulipani italiani perché qui sotto potete decidere anche di mettere delle scritte personalizzate io in ogni foto ho messo una scritta guardate che belle che sono no cioè sono troppo belle e la cosa bella è che sono grandi perché io ho una macchinetta che fa le foto istantanee però le fa piccoline è molto carina però piccoline queste ovviamente sono grandi sono in una qualità molto più elevata sono veramente in un'ottima qualità come se fossero foto vere però qui ero io al mare in montagna quest'inverno sulla prima volta sulla neve ad Africa e in questo caso hanno proprio fanno proprio queste box all'interno delle quali potete mettere è bello anche come regalo io l'ho fatto anche ad una persona che conosco non con questo sito perché non lo conoscevo ancora con un altro perché poi si possono appendere e fare per esempio tutte avete presente il filo con tutte le fotine appese è veramente carino però di questo volevo dirvi dei codici sconto da lasciarvi sia per avere il 25% di sconto col codice LALAROSSIMAKEUP sia per avere 5 euro di sconto però penso sul prossimo ordine comunque vi lascio tutto nell'info box così siamo sicuri di tutto ultimo prodotto ma non per meno importanza questa volta acquistato da me con i miei soldini anche stesso che qualche tempo fa era stato mandato a molte youtubers quindi non è un prodotto nuovo io l'avevo scoperto proprio così perché è stato che ho mandato a molte youtubers molte l'avevano ricevuto gratuitamente io l'ho comprato e questa è la magica CC cream per capelli di Collistar che stanno cercolato cos'è? è una maschera per capelli colorata o colorante nel senso che è un trattamento idratante però anche che dà un colore dei riflessi temporanei ai vostri capelli che durano per alcuni sciampi e vanno via allora io perché ho voluto prendere questa? perché sapete che ho fatto i capelli neri qualche mese fa però adesso vorrei schiarirli e vorrei che andassero più virassero 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 che andassero più sul sul cioccolato e quindi ho preso siccome avevo la ricrescita e comunque sulle punte il colore il nero che avevo fatto ormai a gennaio è molto sbiadito ho deciso di riprendere la ricrescita con la tinta normale che ho acquistato in un negozio e invece fare su tutte le lunghezze questa maschera colorata per avere riflessi cioccolato e dare un po' di vigore ai capelli al colore perché? perché i capelli dopo un po' la tinta dopo un po' qualche mese perde di tonalità e se non andate a rifarla insomma fa schifo e siccome io non volevo fare una cosa permanente perché mi ero un po' stufata del nero e voglio schiarire voglio lasciare in qualche modo scaricare la tinta quella permanente che avevo fatto qualche mese fa ho deciso di optare per questa soluzione temporanea che mi ha dato un riflesso cioccolato ai capelli adesso ormai ho fatto due o tre shampoo quindi un po' è sbiadita però se avete visto le prime stories le stories che ho fatto qualche giorno fa si vede proprio che erano bellissimi belli corposi super morbidi ma soprattutto con un colore bello intenso praticamente dopo lo shampoo voi applicate questo su tutta la pioma e lasciate agire 15 minuti 5-10 minuti diciamo io comunque lo tengo il più possibile poi lavate via e avete questi riflessi sui vostri capelli o comunque il vostro colore è molto rindigorito è molto bello oltre ad avere i capelli super morbidi devo dire che mi è piaciuto molto anche se secondo me colora di meno rispetto alla maschera non ricordo se si chiami così comunque della Beopoint perché la Beopoint fa anche essa una specie di shampoo colorato che dà questi riflessi capelli o comunque colora i capelli temporaneamente e poi dopo alcuni shampoo va via e vi ritorna il vostro colore naturale come se fosse un bagno di colore diciamo così e io ho voluto provare questo che mi è piaciuto molto devo dire quindi il preferito dell'ultimo periodo anche se meno intenso secondo me rispetto a quella della Beopoint però siccome io volevo provare il castano cioccolato ed ero curiosa più che altro volevo provare una cosa al cioccolato ho deciso di prendere questo ed effettivamente è davvero cioccolato e anche il profumo buonissimo e niente ragazzi questi sono i miei preferiti di maggio di inizio maggio o comunque del tutto l'ultimo periodo pochi ma buoni fatemi sapere i vostri lasciatemi un mi piace ci vediamo al prossimo video ciao muack ciao ciao